questo qua c'è un solo un solo problema che quando accedi ad internet tornarete come si tornare un attimo a reda vai indietro indietro un coppia la rossia città facebook oi vengono tutti i quadri, vengono il quadro numero uno, io mi chiesto solo tu la reda è la stessa cosa, ma se fai scorrimento scusami un attimo, ma che ti serve a questo momento? ma passiamo un mese, ma dopo 18 anni ma se tu non vengono le email di facebook, allora tu prendendo uno di questi qua allora vieni qua da roba facebook, da instagram, è diverso ma qui ci cambiamo come roba, roba facebook, vengono a facebook e fai ok risulta sembra che lei non ha accesso alla reda, ha già 4 giorni vengono a facebook non ha accesso alla reda, perchè non ne parla si, però non sei registrato neanche, favore io ho un numero mio, e come fai? no, ti ha ancora di registrare il nome e cognome, l'indirizzo un numero sta tutto qua? un numero? sono registrato neanche? si e devi solo accettare, hanno arrivato i messaggi, se tu hai, non hai una mese e non ho mai fatto questa manca ma che cosa? ma che cosa? ho fatto le chiamate che hai detto tu? quando sono arrivati i messaggi? ho fatto come mi stai dicendo? ho fatto che hai detto, ho fatto che hai detto, la pasticcera da te amato ma che cosa? ho fatto che hai detto, ti mi chiamò tu hai detto che ero? io ho fatto la telefonata da noi ah no, non mi ha detto no ma, la telefonata mi diceva, noi domani mattina veniamo, tu devi aprire il cancello e c'è un'indirizzo a te che hai detto allora fai commettiti, secondo me è l'unica soluzione a Napoli però, perché qua su tutto per noi tu dici che no? tu dici che no? ma guarda, hai l'armi scherzo sono a sapere, hai l'armi scherzo, che stai dicendo? io perché ho detto no a nessuna telefonata di minaccia, niente perché allora dicevo, devi rispondere solo a te o no la te cioè hai ricevuto l'ultima telefonata, l'hai ricevuto gradita gratuita? no, gradita, qual è gratuita era di suo gradimento ah, era di suo gradimento e tu che vedi? e invece ho detto no e loro hanno detto che ho fatto la mano ma hanno risposto sbagliato perché noi abbiamo registrato cari light e tu ci vuoi mettere l'uoglio in colla hai capito questa è una telefonata di... intercettazione 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 già registrata ma no, intercettazione quando hai il disco a te? si ma c'è ma c'è ma c'è ma c'è l'uoglio questa è una telefonata di impedimento ah, di impedimento o no? si, si io ho già detto invece no ma c'è l'avete sbagliato poi c'è l'ultima telefonata l'avete ricevuto l'avete staccato il telefono e io ho detto no ancora è perché c'è due risposte proprio dopo il tappo l'avete usato proprio il telefono è staccata la linea per tre volte però secondo me l'hai finito l'avete usato poi andiamo a vincere il fuoco direttamente perché io ho fatto due io la prima cosa che ho fatto è che i tubi che stanno andando erano sfiati nella casa mia non ho pensato proprio avevo lo stesso problema e i tubi che sono sfiati sai io ho detto la grafferia ripeto quando ha aperto io mettete il tubo l'avete 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 la vi l'avete 9 10 adesso lascia lascia che tu lascia lascia tu la di la